Per l'Italia c'è Si chiam c'è a corte, c'è a fronte a la morte, c'è a fronte, c'è a fronte, l'Italia c'è a mort, sì! Poca Italia! As armas, as armas, per la terra e per l'umà As armas, as armas, per l'Ugenda Nynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynyn We'll have time, let's go! Non c'è parte di chi fate sia un oltretto E' come come, non ho, non ho, non ho... Questo significa in franzà it means let's go, let's go touch the pussy of your neighbor okay go ahead go ahead French, please no la shot de la aussi call me French people, please French people yo French people French people French people il est touché il est touché Noi, non d'accordo Come ma il scone Help me You have to play Come on We are in front of the camera Call my adsh 2013 Ok, noi vogliamo con sex Sexta Scone 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 Il loncone Non ma tu era Fondi Pareil Ma due il loncone Frondi Problemi I tuomino Scone Arpere Sì, sì. Oì, per Leonardo. Leonardo? Moscatel? Non, Leonardo è lui, Leonardo Marcos. Ah, io so. Tu è un ragazzo così bonito, così bonito che non ho capace perché non siamo più insieme. È per questo, è per questo. Noi abbiamo solo un film insieme. Non ho capace la tua attitudine. È solo un film. È professionalista. Ma perché io sono in primo andaro, è stato un tercetto. Qual è la tua attitudine? È la mia attitudine. Ma che ha a vero? Sono molto? È che io sono molto. Leonardo è bello, è bello. È un buon ragazzo. 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 È così lindissimo. È così lindissimo. È tutto. È tutto. È tutto positivo con me. Ma pronto, una question. Qual è la tua attitudine? La tua attitudine? È profissional. È professional. È tutto. tatu Leonardo l'ai missi già? già nel futuro sai che io ando in Italia in 2 mesi 2 mesi ok 2 mesi perché 2 mesi in casa 3 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 2 3 4 4 4 5 4 4 4 5 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 6 6 6 6 7 8 9 9 5 6 7 7 9 9 9 9 10 10 11 11 9 10 10 11 15 15